Buongiorno a tutti, saluto e ringrazio il Presidente Vera che ha promosso e organizzato il convegno di oggi e lo ringrazio per aver voluto riunire intorno al tavolo alcuni tra i più autorevoli storici, politologi, giuristi italiani per un confronto su due idee che mi stanno particolarmente a cuore, il concetto di nazione e quello di patria, concetti fondamentali della filosofia politica, della storia, delle idee che hanno prodotto una letteratura sterminata sui quali ci sarebbe moltissimo ovviamente da dire. Di certo non voglio e non posso competere con gli studiosi che hanno raccolto l'invito di un altro grande intellettuale come il Presidente Vera, però non voglio rinunciare a fornire qualche spunto di riflessione. Il primo elemento può sembrare quasi banale, ma a mio avviso non lo è. Non è un fatto scontato che oggi nella sede della Biblioteca del Senato si discuta di nazione e patria. Non è irrilevante che oggi queste idee siano diventate centrali nel dibattito politico, in quello storico, filosofico, giuridico e siano uscite da una marginalità nella quale per decenni erano state relegate, perché ovviamente considerate a torto idee retrograde, reazionarie, obsolete, se non addirittura pericolose a tratti. Io invece ho sempre pensato che tanto la nazione quanto la patria fossero società naturali, cioè qualcosa che è naturalmente nel cuore degli uomini e dei popoli e prescinde da ogni convenzione, esattamente com'è una società naturale la famiglia, che non a caso uno dei padri del risorgimento, come Mazzini, ha definito la patria del cuore. Così come non è un fatto irrilevante che definirsi patrioti non sia più oggi considerato un appellativo dispregiativo o comunque obsoleto, ma un elemento condiviso e rivendicato praticamente da tutte le forze politiche, incluse quelle che in passato lo ritenevano quasi un'infamia. È una grande vittoria e sono orgogliosa del contributo che anche noi abbiamo dato in questa direzione, perché il mio sogno è vivere in un'Italia nella quale pur nelle differenze tutti possano definirsi e agire da patrioti, ovvero da persone che antepongono l'interesse della nazione all'interesse di parte o di partito.